Questa settimana assistiamo ad una lieve inversione di tendenza e l'incidenza, che era di 9 per 100.000 casi la scorsa settimana, sale leggermente a 11 per 100.000. Anche l'RT tende a salire leggermente, siamo intorno a 0,66, comunque ben al di sotto dell'unità. Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva, siamo intorno al 2%, quindi anche in questo caso molto al di sotto di quella che viene definita come soglia critica. La circolazione di varianti ad alta trasmissibilità però fa sì che sia necessario continuare a vaccinare a grande ritmo e soprattutto anche in previsione della partita di domenica sera continueremo a mantenere dei comportamenti ispirati alla massima prudenza.